Oggi siamo tornati in Alta Val Bognanco, per salire ancora una volta al passo del Monscera. Dall'Alpe San Bernardo risaliamo così fino ai vasti pascoli dell'Alpe Monscera. E dall'Alpe Monscera si scorge in lontananza il rifugio Gattascosa. Grazie a tutti. Al termine della camminata, eccoci al passo, con la tradizionale stretta di mano per la meta raggiunta. Grazie a tutti. 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 Dopo una lunga sosta al passo del Monscera, ripartiamo per il ritorno, iniziando la discesa. Iniziando la discesa. Iniziando la discesa.